Felice sabato sera da Rai3 che vi offre tra poco la visione del film commedia di Richard Quinn, Donne, vi insegno come si seduce un uomo. Per ottenere un'intervista da una psichiatra che ha scritto un libro di successo sul comportamento sessuale femminile, un giornalista finge di avere grossi problemi in materia. Interpreti Tani Curtis, Natalie Wood e Harry Fonda. Non mi resta che ricordarvi i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo e augurarvi una buona visione.